Ignazio ha fatto la proposta a Cecilia, si sposeranno e staranno insieme per tutta la vita. E' caduto dal letto. Vuoi raccontarlo? Si ero stufo di star con te quindi mi sono lanciato, ho sfidato il fatto e il destino per sfuggire le tue grinfie. Perché volevi a tutti i costi approfittarti di me. In che senso approfittarmi di te? Cicchi 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 cicchi. Hanno passato questo weekend fuori per festeggiare il loro anniversario di fidanzamento. E torna Cecilia a casa con una dolce proposta e un anello. Cicchi cicchi cicchi. Grazie a tutti.